Il cioccolato è un alimento che non è ricco solo di calorie, circa 500 calorie per 100 grammi di prodotto, ma anche di minerali importanti per la nostra salute come il ferro e il magnesio. Le ricerche più interessanti tuttavia sono quelle che si sono concentrati sugli effetti positivi che il cioccolato sembrerebbe avere sul sistema cardiovascolare, grazie agli antiossidanti, in particolare i polifenoli, di cui è ricco. Ma quanto cioccolato dobbiamo mangiare per godere appieno di tutti questi benefici? Il mio consiglio è quello di non superare i 20 grammi, in modo da mangiare sì un po' di antiossidanti, ma da non eccedere sulle calorie. 20 grammi di cioccolato corrispondono più o meno a 100 kcal che possiamo smaltire in una mezz'oretta di passeggiata o di nuoto.